Spazio 3 Teatro ha 50 anni e festeggia con una serata di gala al Teatro Comunale di Teramo, un traguardo di mezzo secolo di ininterrotta attività artistica. Spazio 3 è stata protagonista con i suoi spettacoli d'avanguardia in Abruzzo e con il Maggio Festa dato vita ad una rassegna tra le più significative nel panorama regionale, preveggendo tempi e correnti artistiche e soprattutto presentando ospiti che hanno avuto successo nazionale e internazionale. Come è nato Spazio 3 e che cosa è diventato? Spazio 3 è nato nel 68 per l'iniziativa dei ragazzi che volevano fare qualcosa in una città completamente morta e soprattutto erano curiosi del teatro. C'erano prima delle compagnie amatoriali ma di poca vita. Siamo nati alla Fratellanza Artigiana grazie a Mario De Nigris e lì abbiamo iniziato un percorso di spettacoli partendo con i blues di Williams per poi giungere a testi montaggio in cui naturalmente l'elemento politico dissacrante e anche la curiosità di quello che accadeva nel mondo teatrale italiano giungeva anche per frequentazioni. Quindi l'avvenire delle uova di Ionesco e poi un filo teto straordinario nei locali dell'ex Madonna delle Grazie dove il convento aveva degli spazi. Tutti spazi naturalmente avventurosamente conquistati. Successivamente abbiamo cambiato nome perché ci domandavamo cosa servisse e dove andasse il teatro con un teatro come che aveva un punto interrogativo che poi ha perso nel corso dei tempi ed è arrivata anche Carla Piantieri con noi e altri compagni di strada. Lei è arrivata nel 73, che cosa è successo? Io sono arrivata nel 73 ed eravamo teatro come. Rimasi subito folgorata da questo gruppo di giovani che stava preparando uno spettacolo che abbiamo portato in giro per l'Abruzzo e che è stato poi il trampolino di lancio, il punto di partenza forte per noi. Dopo qualche anno nel 77 ci siamo trasformati per varie vicende che non è il caso neanche di ricordare e comunque da teatro come siamo diventati Spazio 3. Quale nome migliore se non Spazio 3, visto che era il terzo spazio che nasceva per noi. Siete diventati anche laboratorio teatrale. Siete diventati anche laboratorio teatrale per ragazzi, giovani, adulti e poi siamo diventati anche Maggio Fest che ha contraddistinto la nostra città, che ha accompagnato la nostra città per 30 anni. E poi anche scena d'autunno, non dimentichiamo un'altra rassegna.